Tutti ecco i nostri cotti, rasato col datterino, rosbif classico e arissa di agrumi, con lo spicchio di banco velocissimo fegato e trippa fresche appena arrivare, particolare della coppa di suino, particolare Ecco la nostra fracosta di scottona, qualità al 100% I nostri soliti saluti con allegria, di augurarvi una buona giornata per tutto il resto del giorno Non mi impressionate, stanno lagliando le cipolle per la cerovese domani, buona giornata